Android 12 è alle porte, manca davvero pochissimo al lancio del nuovo sistema operativo di casa Google. Questo solitamente avviene verso la fine di febbraio, ma durante le scorse ore sono iniziate a circolare delle immagini che ci mostrano quelle che saranno le nuove funzionalità del sistema operativo. Quindi adesso andiamo a vedere anche perché c'è qualcosa di davvero interessante. Prima di iniziare ci tengo a precisare che tutte queste immagini e screenshot che oggi andiamo a vedere provengono da delle documentazioni che Google stessa fornisce ai suoi partner. Quindi le funzioni che oggi andiamo a vedere molto probabilmente saranno presenti su Android 12 finale, però non abbiamo la certezza, non è una cosa ufficiale che Google stessa ci dice. Quindi oggi prendiamo quello che vediamo un po' con le pinze e iniziamo proprio dall'interfaccia del centro delle notifiche che qui viene mostrata con uno sfondo beige, ma non sappiamo se verrà lasciato, anche perché si discosta tantissimo da quella presente attualmente sui Google Pixel e su altri dispositivi Android. L'altra cosa che possiamo vedere è il fatto che qua sopra sulle quick setting non abbiamo più sei icone, ma quattro. Come vedete abbiamo delle forme differenti, però comunque qua sotto invece la suddivisione delle notifiche rimane con appunto le notifiche tradizionali, quelle provenienti da delle applicazioni di terze parti e quelle delle conversazioni, quindi con le chat che possono essere di Messenger, di WhatsApp o Telegram suddivise in un punto un po' più delimitato. L'altra cosa che secondo me è quella più importante di queste immagini è il fatto che possiamo vedere qua sopra una piccola icona con una sorta di cerchietto verde che ci indica che alcune applicazioni stanno utilizzando la fotocamera e il microfono. Questa funzionalità come molti di voi sapranno proviene o meglio è uguale a quella che abbiamo anche su alcuni dispositivi iOS, ma adesso è implementata anche sul sistema operativo di Android. Quando clicchiamo qua sopra molto probabilmente vedremo quest'altra interfaccia, ovvero quella che ci dirà quale tipologia di applicazione stiamo utilizzando. Qui come vedete ad esempio camera, quindi l'applicazione della fotocamera sta utilizzando il nostro sensore della fotocamera, mentre la chat ha utilizzato di recente il microfono e qui possiamo subito capire come i colori delle icone vengono utilizzati anche per aiutarci a capire quando una determinata applicazione ha utilizzato un sensore. Ad esempio la fotocamera, che è stata o meglio che la stiamo utilizzando in questo momento, ha una colorazione verde, mentre la chat che ha utilizzato quindi used precedentemente il nostro microfono, ha una colorazione arancione e questo ci aiuta ancora di più per capire quando le applicazioni stanno utilizzando i nostri sensori dello smartphone. Questa stessa colorazione viene utilizzata ad esempio anche qua sulle conversazioni dove c'è un piccolo pallino con il numero 2 e tecnicamente possiamo pensare che ci indichi che abbiamo ricevuto da poco questi messaggi. La stessa cosa la possiamo vedere anche sull'applicazione della fotocamera con l'icona che ci avverte che l'applicazione sta utilizzando il sensore della fotocamera e anche il microfono. Molto probabilmente però questa interfaccia la vedremo in un primo momento, o meglio quando ad esempio abbiamo una registrazione qui di un video, ci avvertirà che stiamo utilizzando la fotocamera e il microfono, ma una volta che abbiamo già iniziato la nostra registrazione, per evitare che di avere un'interfaccia troppo piena e troppo carica, verrà modificata con un piccolo pallino. La stessa identica cosa, come vi dicevo, la possiamo vedere anche su un iPhone perché quando accediamo alla fotocamera e ad esempio registriamo un video, prima di tutto si accende la lucina lì con un piccolo pallino verde che poi si va ad attenuare e poi passando con lo scroll verso il basso vediamo che la fotocamera ha un'icona verde e sta utilizzando appunto il sensore. Una volta che però usciamo vediamo anche che la fotocamera di recente ha utilizzato il nostro sensore, quindi anche qui abbiamo la stessa indicazione che ci avverte quando una determinata applicazione sta utilizzando i nostri sensori. Questa stessa cosa funziona ad esempio anche sul microfono e sono davvero contento che anche Google abbia implementato questa funzione su Android. Inoltre con questa immagine possiamo vedere anche una nuova interfaccia, probabilmente quando andiamo a regolare tutte le opzioni su un'applicazione che ci dà la possibilità di disattivare la fotocamera, il microfono e la localizzazione di una determinata applicazione. Adesso scollegandoci però da tutto il discorso della privacy un'ultima cosa che ho notato con questa immagine è come tutte le opzioni siano spostate un po' verso il basso. Stiamo notando questo utilizzo delle opzioni anche su altri dispositivi Android ed è una cosa che è iniziata a provenire da Samsung con la sua One UI, poi abbiamo visto anche sui dispositivi di OnePlus con tutte le impostazioni spostate verso il basso. Qui ad esempio quando entriamo sulle impostazioni vediamo la scritta grande dell'applicazione però il tutto è qui verso il basso appunto per essere utilizzato al meglio anche con il pollice. Quindi è probabile che vedremo questo stesso utilizzo anche sui dispositivi con i Google Pixel. Passando alla schermata di home io non mi concentrerei molto su queste icone che secondo me sono soltanto indicative anche perché ho visto che l'icona di Chrome cambia da screenshot a screenshot quindi non credo che siano appunto quelle finali che vedremo su Android 12 ma la cosa che ho notato da queste immagini è appunto una nuova gestione dei widget. Come sapete i widget sono presenti da davvero tantissimo tempo su Android ma quelli che vediamo qui sono molto più simili a quelli che sono presenti anche su un iPhone con il nuovo iOS 14 quindi con un'interfaccia un po' più stondata quindi con delle curvature che si vanno a unire meglio a quelle che sono presenti anche sul dispositivo con le curvature dello schermo. Qui possiamo vedere quindi la possibilità di inserire dei widget sulla schermata di home che ci danno delle indicazioni un po' più rapide sulle conversazioni. L'altra cosa che ho notato è anche che ad esempio su questo piccolo widget vediamo un piccolo pallino verde quindi è probabile che tutta questa gestione della privacy si rifletta anche sui nuovi widget e quindi sempre più attenzione verso questa tematica. Da questa schermata invece possiamo vedere quello che molto probabilmente sarà un nuovo widget che verrà implementato su Android 12. È un widget delle conversazioni qui dice un singolo widget ma all'interno di quest'icona vediamo quella di WhatsApp, quella di Messenger e quella dei messaggi quindi probabilmente vedremo all'interno di questo piccolo widget i messaggi recenti o meglio l'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto sulle diverse applicazioni di messaggistica. Molto probabilmente verrà implementata anche un'applicazione come Telegram, Signal o che altro. Però possiamo vedere anche da quest'immagine un nuovo picker, un nuovo sistema di implementazione dei widget all'interno della nostra schermata home. Molto probabilmente basterà un semplice drag and drop per posizionarlo sulla nostra schermata di home. Insomma con il video di oggi abbiamo voluto vedere un iniziale anteprima su quelle che potranno essere le funzionalità del nuovo sistema operativo di Android 12. secondo me manca davvero pochissimo e le differenze che troveremo sul nuovo sistema non saranno legate a dei cambi di interfaccia, di grafica. Come abbiamo visto probabilmente cambierà qualcosina ma non sarà niente di sconvolgente, non cambierà totalmente, non ci sarà uno stravolgimento totale di quelle curve, di quelle interfacce che conosciamo finora. La cosa che a parer mio vedremo appunto è quella legata alle nuove funzionalità di privacy perché gli utenti stanno diventando sempre più consapevoli, anche le persone più comuni, quelle che solitamente non si interessano di tecnologia, vogliono e hanno il diritto di sapere quando un'applicazione sta utilizzando il loro microfono o la fotocamera. E secondo me su Android 12 vedremo appunto questa funzione anche perché su altri dispositivi Apple, sugli iPhone, con il nuovo iOS abbiamo avuto questa possibilità. Addirittura con iOS 14 c'è anche la possibilità di capire o meglio di bloccare il tracciamento del nostro profilo commerciale e vorrei che ci fosse questa funzionalità anche su Android 12. Quindi adesso per ora questo era tutto, aspetteremo il lancio ufficiale, vedremo cosa verrà implementato però per ora le premesse sono davvero buone. Comunque come sempre io vi invito nuovamente a lasciare un mi piace e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti da Lorenzo.